Ok, così è una partita la registrazione. Però ci darà qualche conoscenza in più che magari non sappiamo. Perciò io passerei la parola a Fabio e dunque vai tu Fabio, illuminaci. Allora, buonasera innanzitutto a tutti quanti. Astore già mi ha presentato, quindi io partirei subito con la presentazione. Spero che mi sentiate bene. Vediamo se è parte, se Dio vuole che parte. Oh, eccoci qua. Come vi dicevo, la serata è presentata da Sommozzatori Bresciani e Laionessa. Grazie che mi avete ospitato. E stasera parleremo di Maldive. Vi ricordo, io ho una piccola paginetta sia su Facebook che su Internet e altri media. Potete trovarmi su scubabiology.org oppure cercate scubabiology su Facebook. Conciamo. Come vi diceva Storo, ho passato un breve periodo alle Maldive del 2019 e 2020. Ho lavorato per un'azienda che fa crociere alle Maldive, crociere subacqua alle Maldive. Ho avuto l'opportunità sera. Sono tutte quante mie. Parleremo un pochino di biologia, non solo marina, delle Maldive. Partendo un pochino da sopra, innanzitutto vi presento l'Arcipelago. È composto da 1192 isole disposte su 300 chilometri quadrati. L'isole fanno parte di atolli. Noi vi faccio vedere un piccolo disegno. Innanzitutto la mia esperienza si è, diciamo, concentrata in queste due zone delle Maldive. una che si chiama la rotta classica, che è la parte centrale, la faccio vedere col puntatore del mouse. Questa zona qua, male nord, male sud, qui, Felidu. Mentre qui viene considerato il Deep South, la parte più grande delle Maldive, il secondo atollo. E qua ci sta... Comunque questi tre atolli fanno parte della parte equatore. Quindi noi consideriamo questi... Come si forma un risale al 1840 è lo zio Darwin, che fra le tante super teorie che ha fatto, ci ha dato anche questa grandissima teoria sulla formazione degli atolli. Praticamente queste zone, dove venivano su questi vulcani, queste montagne, che lo vedete qui, cresce una flangia corallina. Si alza e l'isola si alza, cresce, bisogna sempre della stessa quantità di luce per poter essere florido. Noi abbiamo questi anelli, che poi, come vedete, anelli non sono del tutto, che sono i nostri atolli. La teoria di Darwin è ancora valida. Io ho strutturato un pochino questa brevissima presentazione, molto breve, perché, ragazzi, se parliamo di tutta la biologia delle Maldive, non ho due quaderni interi di appunti, quindi ci vorrebbe ben altro tempo per parlare per bene. Però andiamo dalla nostra alba. Questa è l'alba sull'isola di Fugamula, quindi siamo già sotto le qualità delle Maldive. Tutti quanti conoscete la cartolina classica e le palme. E già da questo punto si può cominciare a parlare un pochino di natura. Le viane sono composte solo ed esclusivamente da sabbia. Il punto più alto sul livello del mare delle Maldive è 4 metri. Sono quindi isole estremamente basse che stanno risentendo moltissimo delle variazioni del livello del mare. Saranno probabilmente fra le prime isole a sparire sulla Terra quando il livello del mare salirà ancora un pochino. Qualcuno dice che nei prossimi 50-100 anni le perderemo completamente. All'interno dell'isola la vegetazione è molto scarsa, anche perché si tratta di vegetazione che cresce da padrona, e le mangrovie gialle, che sono queste piante che vedono la sabbia compattata. Tra l'altro l'isola di Fumamula, questa che è in foto, che si trova poco sotto l'equatore, è un'isola abbastanza particolare, perché oltre ad essere una delle isole più grandi, è una delle uniche isole da avere dei laghi d'acqua dolce. Ha due laghi d'acqua dolce, anche quelli molto interessanti, ma che dobbiamo purtroppo sorvolare. Già dalla spiaggia possiamo cominciare a fare anche delle prime osservazioni, senza bisogno di entrare in acqua, di vari animali. Sulla spiaggia possiamo trovare vari rettili, delle piccole lucertole, possiamo osservare le pulpi volanti, i mammiferi ce ne sono pochissimi, tra l'altro ci sono i gatti e i conigli, sempre portati dall'uomo. Però diciamo che l'animale più facile da vedere è il crostaceo, fra i paguri, come vedete a sinistra, e i granchi ce ne sono veramente tantissimi e facilissimi da osservare. Già guardando, per esempio, sulla destra, qui è un piccolissimo di squalo pinna nera, che è facilissimo incontrare all'interno del mondo migliore per visitare le Maldive, sicuramente la crociera. Se vi piace stare a panciallare al sole, anche il resort fa per voi, ma se vi consiglio la crociera. Per gli snorkelisti consiglio di più gli atolli centrali, diciamo il tour classico, è molto più adatto agli snorkelisti, mentre per gli subagui vanno bene tutti e due i tipi di tour. Quello del sud è un po' per subagui un po' più esperti, che si fanno soprattutto immersioni in pass, spesso c'è corrente bella forte, però poi vedremo più avanti, ci sono anche dei bellissimi incontri da fare. Ecco, importantissimi per le nostre spiagge sono questi pesci qua, i pesci pappagallo, anche i pesci balestra, ma come vedete i pesci pappagallo hanno una fortissima dentatura. La dentatura dei pesci pappagallo permette di rompere i coralli duri, che vedremo fra poco, e loro defecano sabbia. Una buona fetta delle bellissime sabbie tropicali bianche, che voi sapete, sono cacca di pesci pappagallo. Quindi, quando camminerete, vi stenderete sulla spiaggia tropicale, sapete che una buona percentuale è cacca di pesce, insomma. La segradazione dei coralli, o per meglio dire, delle madrepore, dei coralli duri. Queste madrepore, queste vedete, queste acropore, sono soprattutto a pelo d'acqua, si trovano soprattutto a pelo d'acqua, quindi è possibile vederle anche solo indossando la maschera. Delle bellissime distese di madrepore. In realtà, non tutte le zone delle Maldive sono così. negli ultimi ventriamenti della temperatura, ha fatto sì che la maggior parte delle barriere, la madreporia delle Maldive, sia morta. Ci sono alcuni punti dove la barriera è in ripresa, altri punti, specialmente al sud, dove la barriera sta ancora bene, ed è possibile vedere questi scenari del genere. Quindi, questo è quello, tra gli organismi che creano, diciamo, lo scenario per i nostri attori. Vedete, qua potete vedere bene, che sta messa ancora bene, le madrepore. Le madrepore sono antozoi, colonie di piccoli politi, parenti lontanissimi delle meduse, che creano questi, possono creare queste costruzioni enormi. Se mi seguite, mi seguirete in Gina, poi metterò il link sui vari social, dove parleremo di un pochino l'argomento. Sia per quanto riguarda la tuba astrea, una madrepora che vive leggermente più profonda, ecco, fra gli organismi fissi al suolo, si dice trovare gli anemoni, gli anemoni sono parenti strettissimi. Vedete, questo è un polipo singolo, che è parente strettissimo del polipo delle madrepore. Più stretto al nostro corallo rosso mediterraneo sono invece le gorgonie, i rami delle gorgonie mediterranee un po' più poveri di colore, ma sono comunque molto, molto belle e molto, molto grossi. Ecco, bellissimi invece sono, anche a bassissima profondità, i rami di corallo nero. Sempre antozoi, ragazzi, parliamo sempre di antozoi, sono spettacolari, il corallo nero maldiviano è spettacolare. In passato i maldiviani riescono delle ostriche perlifere e loro, pur non conoscendo le manovre di Panea, per prendere le ostriche perlifere e loro pensavano che l'ostrica sputasse la perla, quindi segavano con un seghetto e un sacco lo portavano su per prenderne le perle. Adesso non si fa più, eh. E' molto bello anche di animali venti alcionari, che hanno dei bellissimi colori. Si fanno addirittura delle immersioni apposta per andare a vedere. Questa fila, dove si fa immersione per vedere proprio questi giardini enormi di alcionari, che sono spettacolari. Ecco, questa cornice, questo sforo, in cornice ai nostri attori principali. Chi va alle Maldive lo fa. In un'immersione, in uno snorkeling alle Maldive si possono vedere l'unico snorkeling. I circoli sono tantissimi. Capite benissimo che la biodiversità delle specie ettiche è quella che attira maggiormente il subacuo e lo snorkelista. Io vi farò vedere solo alcune specie. Pensate, se vi faccio vedere tutte e 200, le più comuni, quelle che si vedono più comunemente, non è classico, solo in queste immagini sono 4 o 5 specie diverse di pesce, oltre ad esserci tantissimi pesci con un'inquadratura molto stretta. Ecco, questo per esempio è una specie di pesce, poi, vabbè, come antozoi, bentonici, tantissimi. Ecco, questo per esempio è un pesce molto comune che spesso girandola intorno alle bolle dei subacuo in sosta di sicurezza e di decompressione. Pesce unicorno, pesce chirurgo unicorno. I pesci chirurgo sono molto facili da identificare perché in questa zona della coda hanno delle lame affilate per quello che si chiamano chirurgo. La famiglia si chiama acanturidi e possono avere una o due lamette. Ci sono alcuni molto molto comuni in pochissima acqua che hanno un'unica lametta. Invece il genere naso che sarebbero i pesci unicorno appunto che spesso i maschi qui hanno un corno molto molto lungo ne hanno due. I pesci della barriera questo serve i colori molto alcesi serve per una comunicazione intraspecifica soprattutto di tipo sessuale. In senso sono la femmina appartenente alla tua specie sono un maschio molto figo sono in cerca di una femmina per accoppiarlo. Ecco, questo per esempio è un altro classico pesce di barriera un pesce imperatore pinne gialle questo è un pesce abbastanza grosso che supera i 40 centimetri di lunghezza è un bel predatore. Molto 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 comuni sono i pesci pipistrello i platax alle spalle vedete una grande quantità comune in tutte le immersioni alle maldine e ce ne sono veramente tantissimi e i pesci pipistrello sono comunissimi sia sulla barriera crallina all'interno dell'atollo che diciamo sulle pass le pass per chi non lo sapesse sono quei canali che mettono in comunicazione l'oceano con il mare interno dell'atollo ecco qui abbiamo un altro esempio una colorazione particolare di un pesce palla a punti neri una colorazione gialla i pesce palla ragazzi non sono molto facili da avvicinare si potrebbero anche toccare per farli gonfiare non lo fate perché non muoiono come dice qualcuno ma gli procuriamo uno stress molto forte è sempre meglio non procurare stress inutili a questi animali avviciniamoci quando vogliamo guardiamoli anche da vicino però evitiamo di stressarli ecco questa invece è una fistularia o pesce flauto la fistularia è uno dei pochi pesci che può essere trovato in tutti i mari del mondo da poco è entrato anche in Mediterraneo dal Mar Rosso è possibile incontrarlo soprattutto nella parte sud del Mediterraneo ma è comune in generale ormai diventa abbastanza comune in tutto il Mediterraneo questi sono pesci invece più difficili da avvicinare e con una colorazione questi sono molto belli da avvicinare perché all'inizio hanno una colorazione tigrata a strisce e quando ci avviciniamo diventano completamente blu e sono pronti a scappare molto rapidamente questo fa parte di una famiglia molto grossa che si chiama gli azzannatori questo viene detto azzannatori di mezzanotte la foto è fatta in pass vedete le tubastre qui sul fondo della pass che è molto comune che le tubastre crescano sul fondo della pass perché così si avvantaggiano delle correnti sia l'entrata che l'uscita per catturare il cibo l'ho messa perché qui se seguite il mouse qui ragazzi se mi state scrivendo dei messaggi al momento non li vedo perché c'è un casino di roba sul monitor e al momento non li vedo dopo me li leggerò con calma tutti questo è un pesciolino striato questo è un labri di pulitura andiamo a vedere la corallina fanno un mestiere ottimo che è quello di parassiti dai pesci più grandi quali vedete in azione su una murena qui su un dolci labbra all'erchino e si fanno delle immersioni su alcuni punti dove questi pesci ci sono parecchi dove i famosi manta point dove si aspetta le manta e vedremo dopo ecco fra i tanti pesci gli sweet lips dolci labbra ci sono alcuni che fanno dei bei gruppi così ecco vedete questi sono dolci labbra orientali lectorincus vittatus sono molto belli da vedere scusate se vado un po' di fretta ma i tempi sono stretti ed ecco qui vi dicevo degli azzannatori ecco questi sono anche questi formano dei bei gruppi questi sono degli azzannatori monostigma come nome comune potrete sentire anche luthianidi perché la famiglia è luthianide questo è infatti il nome scientifico è luthianus monostigma vedete quanti pesci ci sono sempre intorno l'acqua non è sempre molto limpida non è sempre molto propizia soprattutto per la fotografia subacqua ma nei giorni che si beccano di acqua limpida poi le fotografie sono eccezionali è divertentissimo fare fotografie ecco fra i luthianidi ci sono gli azzannatori striati che formano gruppi enormi questa è Cudaratilla una secca una tila all'interno di ari dove si va a fare immersione apposta per vedere grossi gruppi di questi azzannatori vedete quanti ce ne sono vedete la fotografia di azzannatori questi creano gruppi a volte di centinaia e centinaia di esemplari molto scenografiche vi dicevo appunto chi va alle Maldive ci va soprattutto per vedere i grossi selaci grossi pesci una delle grandi attrattive delle Maldive sono le mante questa è una manta di riff spendo due minuti sulla biologia delle mante anche se ci vorrebbe più tempo da poco da pochi anni le mante sono state separate in due specie la manta di riff che non è una vera manta è una mobula mobula alfredi e la manta oceanica alle Maldive è possibile vedere tutte e due le mante più comune ovviamente è la manta di riff questa che vedete in foto è più piccina la manta oceanica è un incontro del tutto casuale si può vedere all'esterno degli atolli oppure all'interno dei canali delle pass o addirittura se fate immersione a fuamula il famoso plateau là di passaggio a volte sono gigantesche quelle che si possono incontrare la manta di riff è la più comune quella che si va a vedere sui mantapoi oppure ecco classico si va alle Maldive per vedere gli squali questi sono di pinna bianca di riff e sono fra i pochi squali che possono anche vivere appoggiati sul fondo famoso mito dello squalo che deve ruotare sempre per respirare lo spatano i pinna bianca di barriera e gli squali nutrice spero che tutti quanti sentiate l'audio che mi dicano che qualcuno non lo sente Astori tu mi senti? mi sento un po' come oggi un po' brutico ma probabilmente è la mia connessione probabilmente ok cerco di parlare più piano per essere un pochino più chiaro abbiamo abbiamo poco più di dieci minuti fa eh poco più di dieci minuti la dobbiamo sì sì ce la facciamo quindi va bene vi dicevo fra gli squali più comuni c'è appunto lo squalo grigio di barriera questo in alcune pass del sud è veramente comunissimo se possono incontrare tipo un'immersione classica di linchili se ne possono incontrare centinaia fanno dei muri enormi centinaia centinaia di esemplari sono bellissimi se andate sulla paginetta potete vedere un video dove c'è uno spezzone dove ne passano tantissimi insomma altro squalo si può incontrare è il punto argente questo pure al sud più comune ti dico due secondi Fabio mi senti? sì ti sento allora mi stanno scrivendo tutti che puoi si ricollegare però volentieri se vuoi anche allungare oltre i 40 minuti poi al massimo chi già usa zoom lo sa se vuoi si accade la connessione è sufficiente ricollegarti allo stesso link con cui siete ricollegati prima e ripartiamo con un altro meeting così Fabio puoi andare avanti ancora tanto puoi parlare ok? sì va bene penso ce la facciamo nel caso per le domande ci tratteniamo insomma allora vi stavo dicendo che al sud si fa un paio di immersioni sull'isola di Fugamula per vedere questi amichetti qua gli squali tigre e questa è una novità si fa da pochissimi anni e si fa su due punti di immersione si fa al plateau un'immersione abbastanza profonda dove lì si va a trovare a casa loro e l'incontro lì non è affatto garantito ma vi assicuro che quando l'incontrate al plateau è qualcosa di spettacolare perché siete nel blu e questo squalo che è lungo da 4-5 metri sale carnivoro sale dal blu e vi viene a dare un'occhiata è qualcosa di bellissimo poi per chi lo vuole vedere a tutti i costi si fa questa immersione fuori al porto di Fugamula dove i pescatori scaricano da sempre gli scarti del mercato del pesce e lì si vede a livello matematico perché gli squali risalgono poco per mangiare gli scarti di pesca seguendo determinate regole in immersione si sta tranquillissimi se non si fa i coglionazzi non c'è nessun problema sono squali molto molto curiosi che si avvicinano tantissimo sono abituati ai subacquei ormai e insomma le prime volte fa un certo effetto poi uno si abitua col tempo però se fate una crociera fate una sola volta questa immersione vi assicuro che vederli avvicinarsi sgranocchiare una testa di tonno è qualcosa veramente di emozionante che vi può prendere particolarmente ecco considerate che uno scuolo di questo sgranocchia tartarughe come se fossero patatine quindi taglia il carapace di una tartaruga a metà tranquillamente capite come sia emozionante averli così vicini e averli mangiare così da vicino insomma questo è uno degli incontri da quando ero bambino e vabbè poi si va alle Maldive allo scuolo balena questo è fotografato in notturna ma nella zona sud si può tranquillamente incontrarlo si fa una giornata intera quando si va in quando si va in in crociera si fa una giornata intera per vedere proprio questi questi pesci si fa Mamigili di Curan questa zona si fa avanti e indietro con la barca per cercare di incontrarli in crociera spesso dopo il tramonto ragazzi i tramonti maldiviani sono qualcosa che ve lo racconto a fare chi li ha visti li conosce dopo il tramonto molto spesso in crociera un paio di volte durante una crociera o una volta si mette una forte luce a poppa per o si fa un'immersione notturna questo è il caso di una fotografia fatta in immersione notturna lo si fanno soprattutto nel tour classico al centro e spesso si fa quell'immersione classica sapete per andare a vedere gli scuoli nutrice non ho foto di quell'immersione perché non sono mai riuscito a portare la mia macchina fotografica questa è una mayatila sembra un'altra immersione che si fa al centro la mayatila si possono fare in tutte e due le immersioni notturne che si fanno che si fanno avvicinare anche molto poi vi parlavo della luce messa a poppa una canocchia astiriata che mi è piaciuto mettere perché è una bella foto che ho cercato di fare per tutto il tempo che sono state le maldive che è risalita spesso questa volta avevo la macchina fotografica a portare di mano ho potuto fotografarla sale il planton e col planton sale anche i grossi animali filtratori le mante che fanno questi spin sotto la barca per mangiare il planton quindi la luce attira il planton il planton attira pesci medio piccoli che mangiano il planton e attira anche le mante qui la vediamo a bocca aperta mentre sta filtrando il planton richiamato dalla luce della barca qui ho preso qui ho preso l'occasione della luce che cadeva dalla barca per fare una foto un po' d'effetto di questa manta se sono tutte mante di riff e mobula alfredi e poi ovviamente la luce sotto la barca in alcuni punti adesso hanno scoperto un punto anche a Felidu quindi diciamo zona alimata dove si fa quell'immersione con i nutrice dove mettendo la luce a poppa si può diciamo che c'è una possibilità non è che è andata ed è matematico sperare di vedere gli squali balena che vengono appunto richiamati per nutrirsi non solo di planton ma anche di questi piccoli pesci che si fanno a poppa che si creano a poppa io ho finito come vi dicevo è stato molto molto rapido non so come andrà a vedere la chat da qua aspettate che stoppo vi ricordo sempre la paginetta che stoppo la condivisione ah non ho trovato chat dovrei stoppare però la condivisione dello schermo ah eccomi qua ciao Fabio ciao sono Ursula ciao 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 Ursula ciao buonasera un bacione abbiamo poco più di poco più di tre minuti se qualcuno volesse fare delle domande a Fabio curiosità qualsiasi cosa fatelo pure che così riusciamo a star dentro nei tempi dai Fabio ciao ciao da Nicola ciao Nicola la femmina dello scusami la femmina dello squalo quanti squaletti partorisce alla volta eh dipende dalla specie lo squalo tigre è anche 80 per volta dai 10 agli 80 caspita è una macchina caca caca squali benissimo grazie prego figurati comunque dipende dalla specie per esempio dello squalo balena ne sappiamo molto poco è stata pescata soltanto una femmina gravida e aveva una cinquantina di piccoletti però io voglio oltretutto anche ricordare che non l'ho detto prima ma sicuramente l'avrete notato dalle fotografie che Fabio oltre a essere un bravissimo grandissimo biologo è anche un bravissimo fotografo naturalista perché avete visto la qualità delle foto sicuramente non sono come quelle perlomeno le vie quelle che scanto io ma sono fotografie fatte da un professionista oltre che essere un bravo biologo è anche un bravissimo fotografo naturalista se qualcun altro ha altre domande da fare fate pure ragazzi considerate che sono disponibile anche su facebook quindi potete anche collegarmi col mio profilo se dovete fare delle domande non sto qui tutta la notte perché a certo punto devo andare a dormire pure io allora sicuramente Giuseppe mi chiede qual è il periodo migliore per le immersioni Giuseppe l'alta stagione l'alta stagione va da gennaio febbraio ai primi di marzo quest'anno non l'abbiamo conclusa per i problemi che conoscete tutti quanti macchina caga squali o termine tecnico sì macchina caga squali è proprio c'è scritto nei manuali di biologia comunque vi dicevo l'immersione anche se piove non ci sono problemi in genere però l'acqua è migliore nell'alta stagione la stagione secca anche se con i cambi climatici potrebbe capitare che vi trovate in alta stagione con correnti non giuste piove eccetera eccetera quindi il bel tempo non ve lo assicura nessuno anche in alta stagione però io vi consiglio l'alta stagione soprattutto per il sud e meglio Fabio io se sei se sei d'accordo perché presumo che sicuramente ci saranno altre domande manca solo un minuto alla fine del meeting io se sei d'accordo direi di ricollegarci un'altra volta così almeno chi vuole fare domande vuole saperne di più e si può ricollegare come vi ripeto lo stesso link che avete utilizzato adesso facciamo ripartire un altro meeting così possiamo inondare Fabio di tutte le domande e le condizioni che vogliamo giusto Fabio? si si ok scolleghiamo e ricolleghiamo aspetta aspettiamo che dobbiamo farlo scadere da solo appena accade la connessione da solo poi lo faccio ripartire che così almeno possiamo ragazzi proverò a fare qualche altra serata per chi me lo chiede assolutamente fare qualche altra serata anche di live su facebook o su youtube vedrò assolutamente si bisogna organizzarne altre di serata perché vedo che i partecipanti siamo arrivati a 53 partecipanti non devo dire che non è poco però poi immagino il contrario poi magari vediamo senti senti la voce della verità lì dietro l'ho sentita io la voce della verità lì dietro quando si potrà rispostare organizziamo tutti insieme l'ho sentito bene allora